Ragazzi ci troviamo qua nella spiaggia del Teatro Arcimboldi dove stiamo facendo le audizioni di Sapore di Mare. Questo film che è un culto ormai della cinematografia italiana si trasforma in un musical. È un jukebox di musical perché le canzoni sono tantissime e sono bellissime, con una band dal vivo. Abbiamo fatto una ricerca di tutte le canzoni più famose proprio nel periodo storico, quindi partendo da fine anni 50 fino al 64, 65, sono più di 30 brani solo nel film. Queste sono canzoni che noi abbiamo nel nostro repertorio quasi genetico. In questo genere proprio la forza sta nei medici. coreograficamente parlando è molto vario, molto divertente, tutto molto scegherato. Sarà difficile tenere le persone sedute sulle sedie. Alcune canzoni diventeranno duetti, per esempio Non ho l'età e Il mondo. Queste canzoni qua non fanno più tendenza, sono diventate folklore. In questo spettacolo si rappresentano le tante identità italiane. Parla di storie di uomini, di donne, di capacità di maturare, della spensieratezza, un po' della nostalgia. È il concetto dell'estate che porta con sé il tempo migliore della nostra vita.